A prima vista sono normalissime foto di test in cui si vede una moto in configurazione non definitiva. In realtà c'è un elemento tecnico assolutamente innovativo da iniziare a prendere in considerazione. Nella stagione 2022 lo scarico SC Project per l'Iaprilia RS GP22 di Espargaro e Vignale avrà una tecnologia italiana di alto livello. Si tratta di una nuova valvola che parzializza il gas di scarico ed è gestita dall'elettronica della moto. Già le valvole sono utilizzate in MotoGP ma questa sembra essere fatta diversamente. Questa valvola realizzata in titanio totalmente dal pieno aiuta con il freno motore a dare feeling al pilota in entrata in centro curva. Poi in uscita di curva l'apertura del gas la valvola si apre totalmente per dare il massimo passaggio del gas di scarico. La collaborazione fra SC e Aprilia infatti deriverebbe da oltre un anno di studi attraverso lo sviluppo dello scarico per la RS 250 SP per le RS 660 Trofeo e per la RS V4 del team Nuova M2 Racing che gareggia il CIV per arrivare nel 2021 allo sviluppo dello scarico per la RS GP 2022. Quindi a prima vista notiamo che questa configurazione qui è leggermente diversa per chi è un po' più attento ma per motivi tecnici è chiaro, dalla valvola apparsa sulla moto di Bradel che è anche questo un componente di SC Project, marchiato SC Project, è simile a quello dell'Aprilia. Questa valvola comparirà anche sullo scarico della Honda di Marquez e di Paul Espargaro, forse. Probabilmente sì, lo vedremo fra qualche giorno. Insomma, ecco il Made in Italy, di cui vi parlavo, che accomuna due team e quattro piloti completamente diversi fra loro. Oggi lo vedete nel dettaglio ingrandito sulla moto utilizzata nei test di Sepang da Lorenzo Salvadori. Quindi no quattro pilota, piloti cinque con Salvadori, sei con Bradel. Ciao da Mr. Hermite e iscrivetevi al canale.